Siamo con Claudio Colla, una bella partita, un'ottima prestazione, ci hai scelto il sole forte per questa vittoria? Certamente, anche perché arriviamo da un periodo molto buio e stiamo cercando di rialzare la testa e con calma ce la faremo. Finalmente un po' di morale con questa vittoria. Cosa ti è piaciuto di più di questa partita? La grinta e la voglia finalmente di voler vincere. Ultima domanda, secondo te qual è il punto di forza della tua squadra? E' l'unione, il punto di forza è l'unione e stiamo riconquistando un po' tutto quanto finalmente. Perfetto, grazie mille. Ciao.